Veramente, mio amato Gesù. Voi fate l'ingresso in un'altra Gerusalemme. Mentre entrate nell'anime mia. Gerusalemme non si mutò avendovi ricevuto. Anzi divenne più barbara, perché vi crocifisse. Ah, non permettete mai tale sciagura. Che io vi riceva e rimanendo in me tutte le mie passioni. E le mali abitudini contratte, divenga peggiore. Ma vi prego col più intimo del cuore. Che vi degnate annientarle. E distruggerle totalmente, mutandomi il cuore. La mente e la volontà. Che siano sempre rivolti ad amarvi. Servirvi e glorificarvi in questa vita. Per poi godervi nell'altra eternamente.